Sì 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 a se non picassi anche fatigli un operatore alleato non so porco dio che granata che tirato sono morto Poi dobbiamo trattare un'altra zona Lassala subito Lassata Lassata Il nemico ti scomplica Questa zona Lassata Se rimani in questa zona il nemico ti scomplirà Orco dio Ma quando gioco coi bronzi perdi quindi Semplici scatti di teme bronzi Ma vai fanculo Ma comunque si può escono Ma l'hai detto uguale Ma l'hai detto uguale Si L'attacco ha trovato una bomba Prepararsi alla azione nemica Il devast Ma la c'era dal vivo devo vedere Che nervi ho preso Doc Non per chiederlo su usare ma per fare sto spawn kill Oh c'ha BB rampinato Un beccarlo Un beccarlo un beccarlo Dove stai? Raga corridoio asci Vitti Bene Ricarico Where is Where is Oh Lassata Oh trash Oh no Non trovo una finestra T'ho trovato Ma stai scherzando Ma? Ma... Ma... Tu mare Tu mare Ma... Tu vai vuole Eri 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 vuole Elea vuole Eri vuole Questo Eri vuole Ma è perché Ma stai scherzando? Eri vuole Guarda la terra Ecco, sono morto Oddio, ti ha lavato il culo La salda è chiusa Da te attuvi? Come? Ma c'è anche lì La squadra d'attacco ha trovato una bomba Vabbè, vabbè Curio da questo su una macchinina bastarda Ma non è a ruido della macchinina È in una zona controllata dal nemico, lasciala subito Disindirizzo massivo Quadro d'attacco ha eliminato i difensori Lo so, era da porta di garage Sto laggando un botto Sto laggando Che palle Io qui tocca Sì, lo so, lo so, lo so, lo so Ti metti in edifici tipo in modo assurdo Ho messo un capcan alla finestra Sopra dogana veicoli Sì, è termet One tap, questo one tap lo farò solo per voi Su dai, faccio Eh, faccio per me Si deve prima sforgere C'è un muro, eh? Eh, l'ho notato Eh, riusciva a vedermi Io non l'avevo Oh, codio Come fai da kill? Cosa? Carlo? Ese?